Censurati, minacciati, perseguitati, ma anche schiacciati dalle pressioni dell'ambiente. Giornalisti che sacrificano la libertà personale in nome della libertà di sapere. Al PAN si discute ancora di stampa e libertà durante il festival Imbavagliati, dove si confrontano esperienze di professione e di vita da diversi paesi del mondo. Abri un spazio di discussioni e di dibattito riguardo ai giornalisti che devono fare il suo mestiere in condizioni difficili di minaccia, di attentati, di secuestri, di isolamenti, di esilio. Messico, Colombia, Argentina, Venezuela per parlare di America Latina. Dopo già sappiamo lo che accade in Oriente Medio e anche in Europa per diversi motivi. C'è sempre una restrizione, sempre più forte alla libera espressione, alla libertà di stampa. Non soltanto quella violenta, delle minacce, della mafia, del crimine organizzato, sino quella un po' più nascosta, delle pressioni, della corruzione. In fin, è tutto un modo sistematico che la verità, che i fatti reali non arrivano alla gente, che l'informazione sia sempre più ambigua. Martedì 25, il giornalista Gonzalo Guiglien ha raccontato la difficile condizione della stampa in Colombia. Mercoledì 26, Roberto Saviano interverrà nel dibattito con un video esclusivo per il festival. I giornalisti Alil Mrabet, Jeremias Marchines, Gonzalo Guiglien e Efraim Medina Reyes, Guido Piccoli, hanno espresso la loro solidarietà ad Alessio Viscardi, giornalista napoletano di recente minacciato durante la realizzazione di un servizio inchiesta. Il sindaco De Magistris ha testimoniato a Viscardi la solidarietà della città di Napoli.